Dobbiamo andare a vedere i nostri protagonisti di giornata, le sette, dove sono Laura? E che ne so io, lo sai meglio tu, il palazzetto è la tua casa Però non sai mai niente tu, però non mi piace così, dai un po' più, lavora dai, fai qualcosa Ma lavora tu, sei tu la reginetta, mica io Non cambiamo, vediamo dove sono, dai Sì, 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 guarda quante sono, le sette protagonisti di giornata Io mi chiamo Dulcita Liegi Vengo dalla Repubblica Domenicana Mi chiamo Marissa De Martino Vengo da Olanda Mi chiamo Cristina Carmela Panabianco Rappresento l'Africa Sono Diana Vassiloio, Miss Balcane Vengo dalla Romania Mi chiamo Gabriella Pascolon Rappresento l'Australia Occidentale Oggi facciamo una sfida un po' particolare, siete pronte per una sorpresa? Sì, vediamo, dai Andiamo, venite, andiamo Adesso facciamo una gara di ballo Voi ragazzi avete 10 minuti per fare una coreografia Ho 19 anni Ho 21 anni E poi tipo 4 tempi così e poi giratevi E' brave, dai, io non sono professoressa in questo caso Sono dell'acquario Sono dell'acquario Sono dell'acquario Ma guardate come muovono i bacini, le mani Mio bisnonno e mia bisnonno sono nati da Adria I miei nonni sono di Mola di Bari Io direi che adesso le facciamo Tutte quante assieme Per me sono state bravissime Anche per me è molto molto grave Adesso vediamo chi è la più sovresaliente come si dice Sì, Caliente è la più brava insomma Giudici, che dite, che dite, che dite? Non sapere i commenti di questo Eh, mi sa che si muovono Bene, no? Li piaccio Svaldo, ti piaccio? Benissimo Svaldo Piaccio Svaldo Bene, adesso vediamo chi vince la giuria Chi vince? Perché tu li hai fatti parlare troppo Andiamo dai nostri giurati, andiamo a vedere secondo loro chi vince Eh, vi convincono, vi convincono Non potete più Noi siamo emozionate, vogliamo farle vincere tutte Non si può Bisogna dare una decisione La vincitrice è una Il numero tre Anche per me Sono tutti d'accordo e la vincitrice, lo gridiamo insieme È il terzo Gruppo Sapete, sapete, sentimi Sapete cosa avete vinto? Cosa? Sapete cosa avete vinto? Cosa? Sapete cosa? Molto felice Non avete vinto Niente ragazze, mi spiace Abbiamo fino a di le sorrisse della gente Ho qui a conoscere le sette miss protagoniste Come potete vedere siamo al Camping Jesolo International E allora seguitemi Al prossimo episodio Prima prova di oggi è aerobica Abbiamo qui con noi Fiorella che ci spiegherà cosa devono fare le ragazze Le faremo ballare, hai già in mente qualcosa? Sì, un qualcosa come una dance team con musica elettronica Vediamo come si muovono Ok, perfetto, quindi mi raccomando ragazzi Un'altra cosa, sarai tu a giudicarle Ne eliminerai una alla volta e quindi elegerai la vincitrice Un bel ruolo insomma Benissimo Ok, iniziamo Pronti? E adesso è arrivato il momento di eliminare la peggiore Andiamo da Fiorella Fiorella, Fiorella, Fiorella Allora, dobbiamo eliminare la peggiore Elimino lei Va bene, andiamo a prenderla Mi dispiace Mi dispiace, sarà per la prossima volta Andiamo via Niente Non vince Fiorella, Fiorella Eccomi qua, eccomi qua di nuovo Dobbiamo eliminarne due Quali? No, che dura questa, mi userete, no Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace, mi dispiace Ovvio, ovvio, mi arrabbi Eliminiamo altre due ragazze Altre due ragazze da eliminare Chi? Allora Eliminiamo la bionda Anche se è bravissima Sì Va giù e eliminiamo lei Mi dispiace, mi dispiace Niente da fare, niente da fare Niente da fare Ho veramente vinto Perso, perso, perso Che peccato, che peccato Ma prima di decidere chi sarà la vincitrice Dobbiamo conoscere Miss Olanda Nome Natte E Miss Repubblica Dominicana Eccole qui E chi vincerà? Andiamo dalle ragazze Dalle ragazze Secondo voi Chi è che è stata la più brava? Una alla volta Un parere Per te? Repubblica Dominicana 1-0 Per te? Anch'io 1-0 Per te? Repubblica Dominicana Madonna Per te? Ollenda Per te? Repubblica Dominicana E quindi Mi sa che vince 4-1 Repubblica Dominicana E vuoi vedere cosa vinci? Lo facciamo vedere a tutti Bello Bellissimo Grazie Sei contenta? Grazie Bene bene Così anche la mattina Non ti serve più la sveglia E l'orologio Per svegliarti E fare tutte le prove Con le ragazze Offerto dal Camping International Ciao 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 Ciao